Quel puntino in mezzo all'arno che vedete è Andrea Rossellini, il vigile eroe che si è tuffato per salvare una ragazza. Per questo in Palazzo Vecchio la Federazione Italiana Nuoto ha consegnato al vigile eroe Andrea Rossellini la stella al merito, la medaglia del presidente della Feder Nuoto Paolo Barelli ed un attestato con la qualifica di assistente bagnante ad Onorem, perché quello di Andrea è stato un gesto coraggioso ma necessario per salvare la vita di una persona. Valeva la pena tentare, anche perché la pescaia era molto vicina e tempo per chiamare aiuto non ce n'era, per cui mi sono deciso con un po' di titubanza, non è che mi sono buttato a cuore leggero, però è andato tutto bene e sono contento così. Un'impresa eroica, quella del vigile urbano Andrea Rossellini, come ha sottolineato Andrea Pieri, vicepresidente nazionale della FIN, presente alla cerimonia insieme al vicepresidente regionale Franco Bonciani e agli assessori comunali Andrea Vannucci e Federico Gianassi. Quando abbiamo saputo del gesto del nostro vigile Andrea abbiamo detto che questo è un fiorellino all'occhiello per il nostro salvamento, nel senso che non è un brevetto, non ha fatto un corso, ma ha dimostrato con il suo gesto l'importanza di questa coraggiosa attività che ha fatto. Dopo la consegna delle onorificenze c'è però un'altra proposta della Federazione Nazionale Nuoto, quella della formazione dei vigili urbani nel salvataggio delle persone in acqua. E in più propone in questo ambito, anche visto il grande valore del gesto di Andrea Rossellini, di fornire l'opportunità al Comune di Firenze di fare un corso di formazione per gli assistenti bagnanti, gratuito, a cura della Federazione Nazionale Nuoto, per il rilascio. Sperando che non ce ne sia più bisogno di interventi come quelli di Andrea, ma insomma se ci fosse bisogno qualcuno può salvare una vita. Andrea si è gentato in arno, ha rischiato la propria vita perché lo ha ritenuto la cosa più giusta da fare e attraverso questo gesto ha reso onore al corpo della Polizia Municipale a tutta Firenze.